Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto di quello che ha detto De Rossi? Partiamo dalla Roma, poi se vuoi commentarmi anche Faris. Mi è piaciuto tutto, ma gioco abbastanza facile perché De Rossi ha un approccio sia in campo che fuori che all'opposto di un detestabile Murigno. Se l'avessero mandato via prima o non avessero iniziato la stagione con lui, secondo me la Roma sarebbe cresciuta molto. Sugli arbitri, io scommetto con qualsiasi di voi, non c'era controprova, che Murigno avrebbe utilizzato quel gol dell'Inter per fare un casino. Vi ricordate quando parlava addirittura di rigori moderni? Come se lui facesse il campionato del 1950. Adesso è entrato però nel linguaggio comune questa roba qui, sono i palli moderni. Anche De Rossi è un nostalgico, dice non mi piace questo calcio, ma lo accetta. No, però lui non ha contestato l'episodio e l'arbitro, ha contestato la confusione e le cose, però è stato veramente un signore. E poi, sempre a differenza del suo predecessore, ma non è che sto facendo i paragoni per essere all'asilo, ma perché certi atteggiamenti poi hanno impattato negativamente sulla squadra. Cioè ha difeso la squadra, non l'ha mai criticata, nonostante a domanda fosse evidente che Lukaku ha fatto una partita disastrosa. Cioè Lukaku forse pensava di giocare ancora nell'Inter, ha avuto un qualcosa di freudiano che l'ha riportato in maglia nera azzurra, perché era praticamente piantato in campo, immobile, e poi ha avuto due occasioni per portare la sua squadra sul tre pari. Clamoroso. Quindi, di cosa parliamo, Edi De Rossi, ti dico l'ultima cosa, invece in campo mi è piaciuto il coraggio. Poi approfondiremo le tematiche del campo, perché a differenza di molti o di qualcuno, come prima Michele Borrelli sulle interviste, che diceva che De Rossi è stato un po' sciagurato, perché sul 2-1 ha tenuto in campo troppi giocatori offensivi, io dico che nel calcio moderno si gioca così e non c'è la controprova che se tu togli una punta tieni il risultato o non ti porti l'Inter dentro la tua area. Quindi, solo applausi per De Rossi. E anche per la Roma, tutto sommato. Anche per la Roma in generale, insomma, ti è piaciuta come ha tenuto il campo. Beh, ma in generale, insomma, poteva pareggiare. Massimo, tu cosa ne pensi? No, no, sono ampiamente d'accordo con quello che ha detto Paolo, nel senso che mi è piaciuto tantissimo De Rossi, per quello che ha detto, soprattutto sull'episodio che ha, diciamo così, determinato il vantaggio dell'Inter momentaneo. C'è da dire che, a mio avviso, non è solo, tra virgolette, un paragone da fare con Mourinho. Queste frasi che ha detto De Rossi si dovrebbero prendere e farle vedere a tutti gli allenatori, perché, secondo me, Mourinho forse è in eccesso, è in enfasi. Nel senso, siccome De Rossi l'ha sostituito a Roma, ci ricordiamo subito di cosa avrebbe fatto Mourinho. Ma io credo che la maggior parte degli allenatori, dopo una sconfitta con quel gol, si sarebbero sicuramente attaccati più al gol e non al fatto che, comunque, l'Inter, secondo me, è la squadra più forte in campionato e oggi l'ha dimostrato in funzione di una gara che gli stava andando male, in un campo difficile, con un pubblico difficile, con proprio un terreno di gioco che poteva in quel momento portargli delle difficoltà e invece sono riusciti a venirne fuori alla grande e qui bisogna dare sicuramente merito ai giocatori che scendono in campo, perché poi sono loro i primi attori che riescono a ribaltare determinate situazioni tecniche, tattiche, di grinta, di garra, eccetera, eccetera. Però io risottolineo, e quello anche che ha detto Paolo, probabilmente con De Rossi prima alla Roma, forse la Roma oggi avrebbe un'altra classifica. Chiarissimo, chiarissimo Massimo. Allora, ti lascio per ultimo perché, Sebulini, ti devo far passare un po' questa tensione post-gare. No, ma arrivo, arrivo, arrivo Michele. Leonetti, così li ascolti tutti e poi tiri le tue somme. Mi piacerebbe sentire più allenatori parlare come De Rossi, sul VAR è assolutamente chiaro e cristallino, dice regolamenti scritti male e su questo ha ragione perché non dovresti... Sono bravi a interpretare regolamenti scritti male. Esatto, non bisognerebbe mai interpretarlo. Sulla bontà dell'approccio della Roma, pollice alto, assolutamente, ha fatto un buon primo tempo la Roma, non sono tanto d'accordo sul gol che arriva sulla fuga di Darmian e la palla messa in mezzo per Turam, quando De Rossi dice hanno battuto velocemente. C'è un'inquadratura, eravamo qui in studio a osservare la partita, a commentarla, c'è proprio un'inquadratura e tutti i giocatori da Roma fermi in quel momento. Sospetti loro un po' di sardegno. Secondo me quello è il momento che dimostra ulteriormente che la Roma, quando è entrata in campo nella ripresa, l'Inter ha alzato ovviamente i ritmi, il giropalla, la Roma invece è calata. Detto questo, ripeto, a sentirne di allenatori come De Rossi. Mi è piaciuto tantissimo, anche a me, anche perché è una scoperta un po' per tutti, lo stiamo apprezzando. Allenato solamente con la spalla e questa è la prima esperienza in Serie A. Conferenza dopo conferenza. Caro Borrelli, invece tu adesso devi avere il coraggio di dire che De Rossi è l'unico fuori dal coro, poi sentirò ovviamente anche Giobro. De Rossi qualcosa l'ha sbagliata, praticamente, secondo te? L'Inter, vi ricordo, nelle ultime partite ha vinto 1-0 con il Napoli, 1-0 con la Fiorentina, 1-0 con la Juventus. Oggi ne ha fatte quattro, ne poteva fare di più. È vero che la Roma nel primo tempo ha giocato bene, è vero che la Roma nel primo tempo ha approfittato anche di un'Inter svagata, però lui ci ha detto in conferenza che nel secondo tempo non è la prima volta da quando è tornato che ha dei cali. È evidente, se vi ricordate Roma-Verona, la Roma rischia il pareggio. Dopo aver dominato il primo tempo, la Salernitana negli ultimi minuti va in aria della Roma e per poco non fa il 2-2, col Cagliari è stata un'altra partita. Tu sai che cali, l'Inter ha delle sostituzioni importanti da fare, le abbiamo anche qua predette quali sarebbero stati gli esterni soprattutto. Sei in vantaggio. Sei in vantaggio, stai giocando con due terzini altri, Pellegrini a centrocampo e tre punte. Sei in vantaggio. Secondo me sei stato già coraggiosissimo. Puoi equilibrare un po' la squadra con un Bove in più, che è un giocatore da grande quantità. Poi io capisco gli allenatori questa domanda, io l'ho fatta anche altre volte in altri casi simili. Mi rispondono sempre se io devo fare un lavoro di crescita, tattico, non devo inculcare che facciamo il passo indietro mai. Perché sto lavorando. Meno male, quello è importante. Però Paolo, se no tornerà il calcio preistorico. No, però Paolo sei 2-1 con l'Inter, se tu serri un po' le fila per l'Inter, se c'era un Allegri nel secondo tempo contro, quattro gol non li fai mai. Ma perdi lo stesso, non l'avrebbe neanche rimontata l'Allegri. Però scusate, cambiare un po', voglio dire, c'è una differenza, non dico abissale, ma sostanziosa tra l'Inter e Roma. Anche psicologica, oltre che di classifica di organico. Ma poi tecnica, tecnica in campo. Ma poi, Giovanna, stai giocando a viso per 6-2-1, ci sta a cambiare la tua tattica nel secondo tempo contro l'Opera. Però stiamo dicendo, Giovanna, non stravolgere Paolo un pochino. Ma la Roma, se Lukaku non fosse bollito, avrebbe pareggiato. Ma tu lo sai che è bollito però. Beh, Paolo parli dell'occasione della Roma. Adesso prendo il tuo. Sai se è giocato, che nei grandi appuntamenti sparisce. Beh, non segna da sette partite. No, ma voglio dire, voi pensate che operazione sciagurata nei numeri ha fatto la Roma con il prestito di Lukaku tra stipendio e prestito oneroso. Vabbè, ha fatto 15 gol finora. Sì, ho capito. Dai, va bene. Però sono queste le partite in cui. Anche nell'azione della ripartenza, è lui che fa da blocco e riparto. Però mi chiede, con le grandi sparisce sempre. No, ma questo è vero, questo è un suo, diciamo, problema. È vero, ragazzi. Però la Roma, se vince tutte le partite... Se guadagna 8 milioni netti all'anno, non devi sparire. Allora la Roma deve andare in genere. Queste sono le partite dove devi farla differenza. Sì, ma la Roma deve andare in Champions. Secondo me gli serve Lukaku per provare ad arrivare quarta. Però l'ultima cosa che... Dai, io voglio sentire Massimo e poi ritorno, vado da Gian Bruno. Dimmi, dimmi, dimmi. Ripeto, nel secondo tempo, adesso diciamo Lukaku poteva fare il 3 a 3. Ho capito, quante volte Paredes e i due centrali sono andati in grandissima difficoltà nell'1 contro l'1? Roma è andata in difficoltà nel secondo tempo. Ho capito, appunto, proteggi un po' di più. Sì, ma Michele, tu puoi proteggerti, ma l'attitudine della Roma nel secondo tempo, secondo me anche a livello fisico, è calata. Perciò ti proteggi. È calata e l'Inter, che è più forte, ne aveva di più, ha sfondato. Poi poteva essere più attenta la Roma, però nei primi 20-25 minuti del secondo tempo, oggettivamente, la Roma ha combinato tanti pasticci dietro, non riusciva più a uscire palla al piede o comunque con pulizia. Sono tutti temi, eh, questi. Di balla non c'era in campo. No, esatto. Voglio chiedere a Massimo se De Rossi, secondo te, è stato un po' vittima di quello che aveva annunciato, no? Di giocare a viso aperto e quindi anche quando non c'erano i segnali per continuare lo ha fatto e ha sbagliato. E il lato positivo è che comunque una difesa granitica come quella dell'Inter è stata perforata due volte. È vero che ha segnato quattro gol. Per propri demeriti, Giovanni. Non possiamo, se vogliamo, far crescere il calcio e la visione moderna, non possiamo criticare un allenatore che se la gioca per fare calcio. No, però se la gioca, stavi vincendo. Con coraggio. Io capisco che non devi difendere solo la realtà perché stai perdendo una sconfitta. Ma una vittoria 2-1 sarebbe stata veramente... Massimo, Massimo, però, oh, capisco. No, allora, far combaciare le due cose non è sempre facile. Tu come vedi, Paolo, anche Dionisi fa il bel calcio, però poi oggi se non vince o perde addirittura va via a Sassuolo, non a Real Madrid o al Barcellona. Quindi credo che alla fine purtroppo o fortunatamente, questo io non lo so perché non sono io a dover giudicare, però i risultati contano. Quindi se tu fai gioco, fai bel calcio, eccetera, eccetera, ma poi alla lunga non porti a casa i risultati, è logico che il percorso tuo viene sicuramente valutato in modo diverso. Ti faccio un esempio, Paolo. Se la Roma arriva a quarta ed entra in Champions attraverso il quarto posto o attraverso la vittoria dell'Europa League, De Rossi ha già il contratto firmato sul tavolo dei Fretkin. Se non arriva a quarto e non arriva a vincere l'Europa League o comunque non c'entra la Champions, secondo me è molto probabile che hanno utilizzato De Rossi per fare questo tipo di passaggio da Murigno a una nuova stagione. Quindi alla fine il risultato, poi è logico che pesa tantissimo il fatto che lui abbia giocato a viso aperto, però ti faccio una domanda. Se lui avesse giocato meno a viso aperto nel secondo tempo e avesse portato a casa il risultato, tu saresti stato a guardare che non ha giocato a viso aperto nel secondo tempo, però ha vinto 2-1? No, però io sono tutt'altro che convinto che giocando più protetto avrebbe portato a casa il risultato, per me non l'avrebbe portato a casa. Queste sono convinzioni però, scusa, queste sono convinzioni col senno del poi. E ma, ho capito, ma... Col senno di poi. Oggi abbiamo un risultato che dice Roma 2-1 Inter 4. Nel momento in cui lui ha giocato a viso aperto, ha messo in difficoltà l'Inter, è passato in vantaggio. Nel momento in cui ha continuato a fare quello che ha fatto nel primo tempo, gli è andata male e adesso va tra due. Ma Massimo, nemmeno tu hai la prova che giocando chiuso avrebbe portato a casa il risultato. Però sai che è giocato aperto. No, 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 sto dicendo solo se... Ah, no, eh, chi lo sa. Sto solo dicendo se lui avesse giocato, tra virgolette, all'Allegri, all'Amorigno, tutti dietro, ok? E porti a casa il 2-1. Beh, beh. Tu cosa avresti detto di De Rossi oggi? La stampa, tutti quanti non... No, va bene, ma... Miracolo Roma. No, va bene, ma... Ma la stampa oggi cosa avrebbe detto? Ma no, avrei detto... Ma no, ma è ovvio... De Rossi, grande allenatore, ha riportato la Roma, eccetera, eccetera. Ma per me è grande... Sicuro, dicisci, coraggio e tutto quanto, però hai perso. Per me è grande... Scusa Paolo, mi puoi rispondere dopo la pubblicità? Ah, sì, poi volevo fare una domanda a Massimo. Eh certo, tutto il tempo del mondo tra pochissimo... Ben ritrovati, continuiamo a Sago, Miami. Emil, il botte e risposta, partì già brombati, vai. No, no, volevo chiedere una cosa, perché poi se no stiamo sulle opinioni che possono essere diverse. No, invece gli volevo chiedere una valutazione sulla prestazione dei due centrali della Roma, perché a me non sono piaciuti tanto. Vabbè, Wisen o Eisen, è chiaro, ha 19 anni e si vede che ha la stoffa del talento. Però sui due gol, il primo di Turam e l'autogol di Angelinho, sul primo Mancini lo ha perso Turam, si è fatto travolgere. E nel secondo non c'erano proprio i due centrali. Per me hanno fatto una prestazione insufficiente. Cosa ne pensi, Massimo? No, no, sono d'accordo. Poi quando i centrali vengono meno, soprattutto nei momenti dei gol, è logico che dai sicuramente anche un po' di merito agli altri, ma le loro pecche si sono chiaramente viste. Io mi ricordo, Paolo, quando giocavo e il mio centravanti segnava, partivo da 5 in pagella. Eh sì, eh sì, eh sì. Non c'era niente da fare. E lì due volte su due gol. Non c'era. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Questa è una roba da leggere, perché tu poi ti puoi mettere dietro a proteggere il 2-1. Ma sai che l'Inter gioca in ampiezza, che mette palloni dentro. Però, se tu sei così disattento con i centrali... Ma Paolo, perciò ritorniamo al discorso che Di Bala è uno che non ti fa la fase difensiva, che devi proteggere di più, che Ausen, che a 18 anni lo lascia 1-1 con Turam, con il centrocampo dell'Inter che ti sta prendendo campo e diventa difficilissimo. Mancini, Mourinho, quando è arrivato, giocava a 4. Dopo 3-4 settimane ha detto che non si può giocare con Mancini a 4, perché nell'1 contro 1 va in difficoltà. Adesso se rimpiangi le scelte di Mourinho... No, ti sto a dire... Se rimpiangi le scelte di Mourinho siamo su scherze a parte. No, su scherze a parte siamo quando tu fai sembrare che è andato via il male, è arrivato il bene. Se ne è andato uno degli allenatori più vincente della storia del calcio, è arrivato uno che è inesperto, che gli auguriamo il meglio. Lascia perdere i due anni e mezzo di Roma di Mourinho. Ho capito, ma ragazzi, ma Mancini... Quello che ha vinto non glielo toglie nessuno. Abbiamo un'ipotesi di allenatore che è De Rossi... Ma io vi auguro di arrivare quarto. Quello che ha vinto non glielo toglie nessuno. Ma è il presente che è disastroso. La gestione... Però io non voglio parlare di Mourinho, voglio parlare del secondo tempo di oggi. Tu dici Ausen e Mancini. Secondo me è ingeneroso mettere la croce addosso a Ausen, soprattutto. Parede se uno lento davanti alla difesa, se non sei protetto. Chi ti protegge? Di Bala, Pellegrini, chi torna? Nessuno. Ascolta Michele, quelle sono valutazioni allargate. Io dico nello specifico sui gol nell'area piccola. Lì devono starci centrali. Ho capito. Lascia perdere il Parede se di Bala. Paolo, la notizia l'ha data Inzaghi con il viva voce alla fine del primo tempo. Non siete voi... L'Inter ha preso due gol che quest'anno non prende mai. Ma stai parlando di un'altra cosa. Inzaghi ha suonato la carta. No, ma voglio dire che sembra che adesso... Ha strigliato i suoi... Certo, quando tu fai un'azione dove sei bravo a fare un qualcosa che hai creato... Non è quello che devi dire. Quello di Alciarao è bellissimo, voglio dire. Ho capito. Ma il primo gol è una punizione messa in mezzo dalla tre quarti dove Pavar si addormenta. E c'è Mancini che mi solle. Ma ho capito. E allora anche i due centrali della Roma si sono addormentati e preso il gol. Il gol è il 2-2. Il 2-2 è un'azione classica dell'Inter dove va sull'esterno. La Roma la legge male perché ha due ali sugli esterni. Ho capito. Ma se Mancini non si fa superare sul tempo... Ma Mancini è quello. Non è colpa sua. Eh, quello è quello. Lo devi proteggere. È quello. Allora, aspettate che voglio sentire bene Leonetti. Prima però passo da Gian Bruno. Passa, passa. Dai una tua opinione su questa discussione che ormai si è ben delineata. agli errori di De Rossi e invece Paolo dice no. Ma sì, possono essere considerati anche errori di gioventù. Ma ben vengano. Cioè alla fine cosa stiamo facendo e sottolineando? Che se l'è giocata semplicemente. Ma si gioca il suo futuro e quello del campionato anche di altri. Perché forse, sai, portando a casa una vittoria o un pareggio, la Juve affrontava domani diversamente, anche il Milan magari quel... Certamente, però la controprova che con una... a chiusura, nove giocatori dietro la linea della palla a difendere col pullman di Mourignana Memoria, non ce l'abbiamo. Potesse arrivare un pareggio, anche perché io fatico a pensare di un Inter veramente non in grado di poter farne due, tre, anche con una difesa a oltranza della Roma. Quindi secondo me è andata così, perché alla fine l'Inter semplicemente è più forte della Roma. In un momento storico della partita, dove l'entusiasmo regnava, la Roma aveva preso il sopravvento, l'Inter conto veramente sulle dita di una mano monca le volte che si è andata in difficoltà e in svantaggio. Michele lo ricordava prima fuori onda. Quindi semplicemente tu metti in difficoltà l'Inter quando te la giochi a viso aperto. Ti può andar bene quasi mai. Ti può andar male. Però nella partita secca... Infatti all'andata, ricordiamo benissimo... Io Lenti, però scusa, un dato certo c'è, che così hai perso 4-2. Il dato non certo se avessi fatto diversamente... Posso però dire una cosa, posso però dire una cosa. Vai, poi ti rispondi fra me. Questa la dico perché la so. Siccome ogni tanto so delle cose, ma a volte sono delle puttanate, a volte invece dico la verità. Questa è la verità? No, perché lo sai, Giovanna, lo sai meglio anche tu. Ma io ti conosco, so che... Quando ti dissi che Conte aveva firmato per l'Inter e una settimana dopo ci siamo dimenticati di dirlo qui, poi una settimana dopo è venuto fuori sulla Gazzetta e lo sporo in prima pagina. Allora, io vi dico una cosa su Murigno, perché non è una voce. Questa è la realtà di quello che è uscito quando è arrivato Daniele De Rossi. Daniele De Rossi ha detto a qualcuno all'interno del suo staff, del suo spogliatoio, eccetera, eccetera, che a livello fisico Murigno ha lasciato le macerie, che il signor Lukaku, ma no, ma qui non c'è... Il signor Lukaku a livello fisico sta a pezzi, perché non si allenava mai, perché si allenava 20 minuti a livello fisico con Murigno. Ah, ragione. Perché voi dovete andare, ragazzi, perché se no uno non si ricorda o comunque dice le cose senza però completare la situazione che ha lasciato Murigno, che non è solo una situazione di concetti tattici, è anche una situazione atletica, fisica. Questo non lavorava mai. Quando Antonio Conte ha preso Lukaku all'Inter, se lo è lavorato per due anni, chiedete a Borrelli cos'era Lukaku quando l'Inter ha vinto lo scudetto con Antonio. Lukaku era un giocatore completamente diverso, perché con Lukaku devi lavorare in un certo modo e devi stargli addosso in un certo modo. In conferenza l'ha detto. Aspetta, aspetta che Leonetti poi risponde. Quindi vedi, Massimo sta codificando una mia impressione, cioè guardando il secondo tempo della Roma io ho visto questa flessione fisica. Quando tu non sei lucido, non riesci a uscire con la palla dalla tua area, non riesci più a impostare, ma poi lo vedevamo, correva di meno. Concludo la querelle... Però tu De Rossi lo sai, perché sai che ci sono le mani che metto. De Rossi ovviamente non può giurlo in maniera pubblica. Non posso giurlo in maniera pubblica. Giovanna, se lo sai bene fisicamente, cioè se lo sai bene fisicamente, vai in sofferenza anche se ti abbassi. È la stessa situazione del Napoli, del post-Garcia, che atleticamente ha lasciato le macerie. E poi è ovvio che De Rossi in quattro partite non ti rimette in piedi una squadra, soprattutto uno come Lukaku, che ha bisogno di giocatore loro. Ma c'è tutto a livello fisico, ma c'è tutto a livello atletico, ragazzi. Quando arriva un allenatore, io l'ho provato, essere con un allenatore che ti faceva fare zero a livello atletico, arriva l'altro, non è che tu arrivi al martedì e la domenica voli. Non è così. Ci vuole del tempo, poi a metà stagione così, figurati. Se rifai la preparazione, fai i carichi, sei imballato. Ma infatti è difficilissimo subentrare. Ma questo si è visto proprio plasticamente più che di oggi. In Roma-Verona, la prima partita, la Roma che aveva fatto un bellissimo primo tempo, nel secondo... È sparita. Se era due a due non c'era niente da dire, il Verona ha fatto un po'. Però voglio dire che... Sapete De Rossi, sapete De Rossi chi si è andato a studiare in tutto questo tempo? Conte. Gli allenatori che si è andato a vedere? Conte, Tudor, Juric, lo stesso Spalletti. Se voi andate a vedere nei tempi in cui Daniele non era alla Spall ed era a casa, lui si è andato a vedere prima e dopo Spall, si andava a vedere questi allenatori tutti i giorni, ma è stato anche un mese a vedersi gli allenamenti di Antonio Conte. È stato 20 giorni a vedersi Juric o Gasperini o questi allenatori che fanno della fisicità una forza per poi poter applicare i concetti di gioco che ha in mente De Rossi. Come concetti di gioco Massimo per adesso mi sembra più Spallettiano che Contiano e Gasperignano perché non va a prendere uno a uno gli avversari ma fa molto giropalla dal basso ecco da questo punto di vista poi è veramente presto per giudicarlo ma non si può nemmeno pretendere che dopo tre partite vinte oggi incontri ovviamente l'Inter come dicevano sia Paolo che Massimo non fa il click a livello fisico cioè se la Roma davvero per parecchio tempo ha sofferto a livello fisico e Lukaku in queste condizioni non arriva De Rossi con la bacchetta magica ma su e concludo su Lukaku eravamo qui in diretta e io te l'ho detto perché oggettivamente vedere che cosa ha fatto Lukaku su quel lancio lungo e sulla non deviazione di testa da zero metri ma lo vedi anche come corre come si muove è abbastanza pesante l'anno scorso all'Inter fino ad aprile e poi però attenzione perché De Rossi anche nella conferenza sono velocissimo dice a certi giocatori io non posso dire che va sempre tutto bene il riferimento a Lukaku mi sembra abbastanza bene dopo la pubblicità così riparto per non parlare ancora di Murino solo per dire che lui ha sottolineato più volte questo discorso che alla fine gli erano rimasti 12-13 ha dovuto insistere sugli stessi e quando non hai la possibilità di variare poi li spremi non ti trovi la rosa omogenea dal punto di vista della preparazione perché i vari Awara Renato Sanchez Di Bala Pellegrini più fuori che De Smolling Pellegrini non lo faceva giocare Pellegrini non lo faceva giocare in questa fase del campionato poi parliamo di Awara e Sanchez dall'inizio ma arrivare adesso ma fido il mago di Ossio anche De Rossi non Awara Sanchez e non sicuramente oggi c'erano tutti tu sì ma non gioco vai a vedere le presenze vai a vedere le presenze andiamo in pubblicità perché come sempre sono in ritardo torniamo cercando di vedere adesso di spostare la visuale vedere cosa ha fatto di buono l'Inter ma cosa anche non è girato in quel primo tempo perché c'è qualcosa che può far anche scattare l'allarme ben ritrovati allora prima di ritornare in tema Roma-Inter versione nero-azzurro vado da Alberto Gianbruno che succede in quel di Sassuolo allora a Reggio Emilia 1 a 1 in questo momento tra Sassuolo e Torino sì perché ho pronto un'altra intro ma me la gioco più tardi avevi pronto un'altra intro? sì 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 non voglio svelare le mie carte in questo momento c'è il Torino in possesso del pallone con Masina Masina che è entrata nel corso del primo tempo un problema muscolare ha fatto sì che Rodriguez ex Milan tra l'altro andasse a lasciare il campo non è riuscito a proseguire la sua partita dunque a freddo ma nel vero senso della parola si è alzato dalla panchina si è tolto miliardi di tute e Masina è entrato in campo e praticamente ha fatto il riscaldamento giocando e adesso è uno comunque dei migliori in questo primo tempo 1 a 1 tra poco scopriremo anche l'entità del recupero pochi istanti fa Zapata ha rischiato di andare con la sua personale doppietta e siglare l'ottavo gol in campionato ricordiamo uno alla seconda giornata con la maglia dell'Atalanta poi si è trasferito in quel di Torino andando a infliggere anche una doppietta la sua vecchia squadra adesso una punizione quasi mortifera da parte di Enrique col pallone che sbatte pochi centimetri prima di Milinkovic Savic è molto bravo il portiere del Torino però in presa bassa allontanare sventare la minaccia sono due minuti di recupero e in questo momento un pari che sicuramente ci sta relativamente a quanto visto forse un po' più Torino meglio rispetto al Sassuolo che era partito con grande entusiasmo ricordiamoci che Sassuolo è ancora orfano di Berardi ne avrà per due tre settimane circa però dicevo è un pari che sostanzialmente non servirebbe a nessuno classifica la mano la regia è pronta a schiacciare quel bel bottoncino e farci vedere la graduatoria guardate qua il Sassuolo non si tirerebbe fuori dalle sabbie mobili il Torino invece in caso di vittoria avrebbe la grande opportunità di agganciare almeno momentaneamente il Napoli ma al momento è uno a uno allora tra l'altro ci ha svelato Massimo di quanto De Rossi dopo l'esonero si è andato a studiare a imparare a guardare e si era focalizzato su Conte ma anche su Spalletti e proprio De Rossi mi diceva Borrelli che nelle tante tv in cui ha parlato diciamole tutte anche Tudor e Iuric anche Tudor e Iuric anche Tudor e Iuric Gasperini sì sì insomma non è stato fermo è andato a vedere quegli allenatori da cui poteva prendere qualcosa affini anche al suo credo calcistico e lui si è proprio definito un figlio di Spalletti e per cui insomma avevamo proprio fatto benissimo a darci questo retroscena e poi Bargigia ha associato proprio l'allenatore giusto come ispiratore come idea di calcio che sta proponendo è più spallettiano secondo me volete le parole precise perché sono interessanti e poi ti lascio la parola scusa Paolo io sono un figlio calcistico di Spalletti e lui non voleva complimenti per una partita persa anche qua si vede l'umiltà potevamo pareggiare ma l'Inter non ha rubato nulla se vogliamo competere con squadre così forti dobbiamo diventare perfetti se siamo contenti per aver giocato una buona partita con l'Inter ma persa la direzione è la mediocrità e non possiamo permettercelo anche questo diciamo che anche dal suo predecessore ha preso qualcosa l'umiltà ha preso l'umiltà dal suo predecessore no volevo dire no diciamo che diciamo anche scusami anche questa fatemela dire diciamo anche che Antonio l'ha avuto in nazionale e lui ricordo che disse ad Antonio spero di averti un giorno anche in una squadra di club perché mi faresti durare la carriera più anni di quella che mi potrebbe durare con qualsiasi altro allenatore un complimento questo detto ad Antonio nel momento in cui De Rossi ancora giocava non ci dimentichiamo importante allora caro Giovanna vai rapido rapidissimo tipo un interseed senza ritardi perché senza ritardi vai vai non ci dimentichiamo che De Rossi è quel De Rossi che tra l'altro venne elogiato nella disfatta di San Siro Italia-Svezia quando Ventura chiama De Rossi per farlo entrare con l'Italia che deve fare un gol lui si tira e dice ma che cazzo non devo entrare io c'è Insigne che deve entrare quindi già ragionava andando contro la chiarezza di idee del nostro ex del CT ma non devo entrare io questo è un cameo che mi piace avere in questa serata di notizie e commenti insomma di un certo livello allora gli up and down gli up and down dell'Inter ah pensavo di Sassuolo Torino ti sei illuso per un attimo mi sono illuso ti sei illuso allora facciamo il appena un sigla maestro perché voglio vedervi criticare le decisioni non arbitrali ma di qui in studio di Michele Borrelli siete liberi di contestare siamo prontissimi secondo me criticare Borrelli è come sparare sulla croce rossa non voglio farlo questa è una dichiarazione forte invece Leonetti secondo me ci entra con tutti i piedi no ma io già in diretta quando guardavamo alcuni rilievi li avevamo mosse Michele adesso vediamo questi app andati vediamo vediamo dai Turam 8 Lukaku 8 no 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 partiamo con gli up cioè i positivi quelli che io ero stato critico con Turam nel primo tempo gli avevo dato 5 e mezzo però alla fine della partita gli ho dato un bell'otto perché secondo me è stato il migliore in campo è stato il migliore in campo perché ha fatto un gol e mezzo ma non a caso a un certo punto lui di solito toglie in zaghi Turam e mette Arnautovic ha tolto Lautaro che era molto stanco mentre Turam campo aperto continuava a scattare a riscattare ha messo a ferro e fuoco nel secondo tempo la difesa della Roma che si sbilanciava sempre di più alla ricerca e al pareggio poi due ottime prestazioni di Bastoni che l'ha coronata col gol alla fine gli do 7 e mezzo a tutti e due e a Mkhitaryan che secondo me è veramente un giocatore per cui non ho più gli aggettivi lui è nella parte di campo dove uno nel manuale dovrebbe stare vai a cercare e lui c'è se inizia a segnare anche un po' di più ad avere un po' il tiro da fuori poi a 35 anni continua a migliorarsi a richiamare i compagni quando l'Inter sbanda non è mai dalla sua parte poi le note negative le note negative allora Pavard oggi dopo aver fatto 3-4 partite veramente ottime oggi non mi è piaciuto nel primo tempo si è addormentato così iniziamo a scrivere 5 e mezzo 5? 4? 5 e mezzo perché nel secondo tempo è risalito anche lui però nel primo tempo era anche 5 gli do 5 e mezzo nel totale perché nel primo tempo secondo me è lui che non si può fermare quando Mancini si inserisce è vero può sperare che Acerbi fa il passo avanti e poi sul secondo gol e lì è molto difficile perché tra Pellegrini e Ciarawi dove vado Temporeggio vado là vado là però anche là forse con la sua esperienza poteva fare qualcosa in più non il solito Pavard quindi 5 e mezzo poi sono curiosa perché puoi tenerne anche uno solo poi sugli altri allora mi devo sforzare perché comunque è il primo tempo dove l'avrei trovato facilmente il secondo poi cambia e il giudizio è totale però se devo cercare il pelo nell'uovo Lautaro e Di Marco gli posso dare 6 meno Lautaro non è più brillante come fino a due partite fa e Di Marco molto bene invece nella propositività però impreciso nella cosa che lui dove lui è fortissimo nel tiro oggi ha avuto 2 o 3 occasioni lì al limite o dentro l'aria svilenco ci ha battato guarda ti chiedo una cosa così vado sul giro di opinioni anche su questo voto l'allenatore che voto dà l'allenatore? ma l'allenatore allora il primo tempo l'Inter era svagata oggi e l'ha messo anche Inzaghi però nel secondo è venuta fuori la caratteristica dell'Inter di riuscire insomma a fare quel calcio fluido che l'ha caratterizzata tante volte quest'anno è tornata a segnare tanto come non faceva da Lazio-Inter insomma la semifinale d'andata posso dare 6 e mezzo facendo la media tra il primo e il secondo tempo perché il primo era insufficiente il secondo molto buono e a De Rossi quanto date per capire cioè se è mezzo Inzaghi De Rossi no io De Rossi mi spiace sono cosciente sì perché il voto non può essere solo condizionato da risultato se no è facile no non solo da risultato dalla gestione se no ma a me è piaciuto uguale perché è coraggiosa no ma infatti tu l'hai detto e secondo me perdi sta partita ma da qui alla fine del campionato con un atteggiamento così cresci porti la squadra crescere sì ad avere più consapevolezza rischi di non crescere più lì cioè lui si gioca anche la permanenza no ma ascolta ma io non penso che si giochi la permanenza se arriva al quarto o quinto a prescindere secondo me se credono vabbè questo al minimo ma se credono in un allenatore in un progetto cioè possono ottenerlo dipende che segnali ti ricordi cosa ha detto De Rossi quando è arrivato mi hanno parlato chiaro io vengo per sei mesi poi si vede beh ma è ovvio però scusate scusate un club è una proprietà questa però Paolo è una proprietà questa americana che guarda i risultati non guarda se c'è gioco e c'è una crescita beh Massimo scusami se per quello ha tenuto tra l'altro non c'è neanche più il direttore sì ma se per quello ha tenuto Mourinho che non è mai entrato in Champions due anni se vogliamo vedere ma quello è un altro paio di maniche quello è un altro paio di maniche c'era un contratto questo ha detto bene Borrelli credo gli hanno parlato chiaro all'inizio tu vieni per sei mesi e poi vediamo sì ma questo è chiaro però ti posso dire scusami qualcuno ha parlato con i Fredkin per proporre determinate persone gli hanno risposto dobbiamo aspettare di vedere che cosa fa De Rossi perché se De Rossi arriva a quarto o raggiunge l'Europa League e quindi entra in Champions non possiamo mandarlo via lo dobbiamo tenere e gli dobbiamo rifare il contratto altrimenti apriamo la possibilità ad altri allenatori questo hanno risposto i Fredkin a una persona con cui ha parlato ho capito però io stavo parlando dal mio punto di vista perché io dico che da quello che fa vedere De Rossi io non mi avventurerei in altre ipotesi di un allenatore navigato dove perché sai qual è il discorso è un po' incoerente allora quello che emerge perché si sta capendo che hanno cambiato filosofia di investimento i Fredkin no cioè dalla squadra dall'instant team con i giocatori come Lukaku di Bala ai giovani come Baldanzi quindi evidentemente c'è una filosofia dietro diversa e secondo me non basta prendere un allenatore di nome devi prendere un allenatore capace di farti crescere e di sviluppare questo progetto non prendono De Rossi per il curriculum di De Rossi prendono De Rossi perché cacciando Murigno se non prendono una bandiera gli ribaltano la sede ma il curriculum di De Rossi è ovvio non ha curriculum appunto ma è una bandiera come fanno a dire credere in De Rossi dice che De Rossi poverino vedi come lavora ho capito ma se hanno la possibilità per esempio di andare su un conte che potrebbe anche forse non si sa figurati se non fanno su conte allora vuol dire che praticamente rinnegano il progetto che a gennaio avevano lasciato intuire e che stava emergendo anche tra le dette loro non sopportavano più Murigno come tu hai detto tante volte si no ma se prendi conti devi avere qua un po' di instant team uguale però quello sicuro quello sicuro non puoi andare con i ragazzi io non dico che sbagliano fanno bene dico solo che allora cambierebbero ancora il progetto ma non ci sarebbe da stupire ma dei ragazzi sono quelli che con una stretta di mano come ci raccontava in retroscena proprio Massimo ce lo raccontavi tu hanno licenziato Maldini nel momento in cui pensava di avere il contratto in mano voglio dire comunque di ragionare sul futuro ma oggi non c'è un progetto Paolo è sempre sul tempo il progetto è arrivare fino a fine stagione e vedere quali risultati porterà De Rossi dopodiché si deciderà tra l'altro non è che uno voglia accusare Friedkin o meno ma non mi sembra la prima volta che magari un progetto venga cambiato in corsa beh io penso che se tu hai la possibilità di avere conti chiunque possa cartocciare un eventuale progetto e hai la voglia di sostenerlo c'era qualche altro nome oltre De Rossi per questo volevo chiedere anche che però non è un allenatore il classico è tra i dettatori volevo chiedere a Paolo se c'era qualche altro nome che si accollava passatemi il termine il contratto per sei mesi rinnovabile solo in caso di ma lì hanno dovuto ovviamente portare i raghettatori di casa gialloroscia un altro donato no dico un altro donato a parte c'è stato Mazzarri che ha fatto la stessa cosa ma beh sappiamo come Mazzarri sei meglio di me come Mazzarri è tornato a Napoli no no ma ma ci sta anche cioè che abbiano fatto questa scelta gli americani io non metto in dubbio però secondo me il bravo dirigente che ha un progetto che non cambia ogni stagione ogni mezza stagione per i risultati perché se no finisci in un imbuto che non esci più di spese e di casini e bruci i giocatori è quello che vede come lavora un allenatore e in base anche al materiale umano che ha che non dice adesso butta mare dei rossi perché ha perso con l'Inter no ma mica decide oggi come dice Franco a fine stagione io dico per assurdo Massimo dice se non arrivi in Champions non mi dai quei soldini lì che mi servono ma perché ha giocato a calcio ha perso con una squadra più forte però mi ha fatto vedere chi ha delle idee aspettiamo da qui a fine stagione poi è ovvio che se per gli americani conta solo arrivare in Champions va bene se non ci arriva paolo in un calcio ideale io sto con te no perché tu devi seguire la crescita l'impatto e soprattutto l'imprinting che dà un allenatore ma è il calcio di oggi cioè in Italia con una proprietà ballerina ballerina nel senso che non ha un progetto fisso come quella dei fritkin vuoi dire in Italia Franco in Italia c'è purtroppo che poi questi sono americani quindi non sono italiani ma anche a livello mediatico di cultura non è detto che restino no 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 ebbè no infatti io ho sentito anche voci arabi è chiaro è chiaro perché loro hanno smentito ci sta tutto c'è quella tarantella dello stadio che va avanti da anni no ma dico in Italia noi abbiamo questa cultura del cambiare tra vi ricordate non lo so cosa succede in Premier quanto durano certi allenatori Ferguson che non vinceva all'inizio Wenger sì vabbè vabbè c'era più una cultura però neanche all'epoca in Italia in quel periodo di Ferguson e Wenger c'era questo tipo di mentalità radicata cioè in Italia se ci sono quattro risultati che non vanno bene il primo pensiero è o si cambia l'allenatore o c'è la stampa che spiglia allora devo andare in pubblicità da Borgo Rossi ritorniamo Massimo vengo da te allora aspetta aspetta Leonetti però prima volevo tornare da Massimo perché quando dicevamo insomma del progetto degli americani tu hai detto beh dipende se restano no perché insomma c'è anche questo punto interrogativo sulle proprietà specie quella della Roma Massimo dimmi ciò che sai si sa benissimo che loro sono in contatto diretto con i proprietari del Paris Saint Germain che si sono delistati apposta dalla borsa italiana quando uno si delista significa che c'è puzza di cessione quindi la Roma non è più listata nella borsa italiana hanno messo 890 e passa milioni come finanziamento soci all'interno della Roma quindi la Roma la venderebbero a 1.2 1 billion 1.2 per fare una plusvalenza di poco più di 300 milioni e questa è una trattativa che stanno portando avanti con condizio sine qua non legata molto allo stadio perché le autorizzazioni si sono velocizzate è quasi tutto pronto da parte diciamo così dell'aspetto dei permessi eccetera eccetera però la condizio sine qua non perché l'affare vada in porto è sicuramente lo stadio a cui gli arabi tengono tantissimo per andare a rilevare la Roma stessa quindi queste sono notizie che ho di prima mano da chi addirittura fa parte dello staff di avvocati che stanno seguendo questo tipo di operazione insomma per cui non c'è nulla di certo nella Roma soprattutto la proprietà estere che detengono clavi italiani che lavorano in Italia hanno un obiettivo unico avere lo stadio di proprietà ma il calcio italiano ci arriva con un ritardo quasi tutte Michele ma perché lo stadio ti consente ricavi ti consente delle operazioni che diversamente non puoi fare entro otto settimane ha dato pure lui l'ultimatum perché non ce la fa più nessuno siamo indietro rispetto a tutta l'Europa ma è giusto perché le proprietà straniere hanno una modalità di pensiero di progettazione completamente diversa ma la Juve l'ha fatta italiana se tu senti i proprietari italiani lo sai l'importante ma fino a un certo punto l'Udinese l'ha fatta ci sono posti per cassi ma fino a un certo punto allora c'era però Leonetti se non sbaglio poi voglio sentire anche Gian Bruno sulla ripresa del secondo tempo che avevi che Leonetti tu avevi qualche iniezione volevo chiedere a Michele perché lui ha fatto i suoi up and down volevo capire nel primo tempo io c'era no glue te l'ho detto l'avevo messo nei down a fine partita c'era no glue dove lo metti e il voto soprattutto si insomma oggi non è stata la miglior versione poi abbiamo negli occhi la prestazione con la Juventus che era andata sull'otto qui siamo più vicini al 6 6 o 5 e mezzo no no perché puoi dare un'insufficienza quei 6 meno lì voglio dire Lautaro può prendere anche 5 in una partita è da 5 sai perché io non gli do 5 mai anche con la Juve qua abbiamo fatto una discussione perché quando Lautaro non fa quello che fa di solito cioè il gol si rende utile nella fase difensiva cioè sempre nella battaglia non è uno che sparisce oggi Lautaro più utile di Cianoglu se mi permetti io Cianoglu lo visto un pochino in ombra anche due anche tre Borrelli scusa ti faccio una domanda visto che tu vedi l'Inter sempre io non è che la vedo la vedo spesso ma non sempre il fatto che adesso qui mi aggrappo un po' dei numeri il fatto che l'Inter fino adesso aveva preso dieci gol e ne prende due apprendo poi anche diverse diverse diciamo due occasioni perché la Roma poi poteva segnare il terzo diciamo ecco è un qualcosa che può capitare e lo indichi come un incidente di percorso oppure è un qualcosa che ti può preoccupare in funzione del fatto che se diciamo il campionato può essere messo diciamo così per il momento in frigo nel senso che hai messo tanti punti tra te e le inseguitrici arriva però il momento in cui ci sono le partite tra virgolette un po' secche e tu che avevi diciamo così basato tutto o buona parte sulla difesa oltre al momento magico di Lautaro e questa questa prestazione a livello difensivo ti lascia un po' perplesso è una domanda bravo bravo massimo guarda è quel famoso scricchiolio di cui parlavo bravo vai borrelli nel primo tempo sicuramente una difesa ha detto bastoni ci hanno mangiato senza mandarli a dire ma al di là di questo allora io ho sottolineato più volte quest'anno che Inzaghi che era un allenatore da grandi classiche doveva crescere in un aspetto secondo me nella corsa a tappe qual era l'aspetto la fase difensiva e la ferocia con Paolo spesso questo termine l'abbiamo usato su Inzaghi deve migliorare la ferocia quest'anno l'Inter è migliorata tantissimo nella fase difensiva anche De Vrij per esempio sta rendendo di nuovo come due anni fa oggi ha sostituito la Cerbi che ha avuto un problemino Pavar sta dando il contributo Bisse che è entrato bene quindi è cresciuta molto i numeri lo dicono l'attenzione anche c'è sempre stata oggi no oggi nel primo tempo ho visto un difetto dell'Inter dei primi due anni di Inzaghi qual è questo difetto quando le cose andavano ultra bene la bellezza sfociava nel pizzico di presunzione nel pizzico di leggerezza l'Inter sull'1-1 anche quando la Roma ha pareggiato secondo me non ha colto nessun segnale perché poi aveva la palla nella metà campo avversaria si è fatta prendere in infilata dicevo a Franco in diretta come Juve Inter 2-0 dell'anno scorso c'è la classica ripartenza con le preventive molli allora è un campanello d'allarme c'è un ritorno a un passato che non è andata aspetta però Faris ha detto deve essere un monito alla fine della partita però lo scudetto perso soprattutto col Milan ma anche le 12 sconfitte l'anno scorso in campionato non ci posso credere che dopo il monito tu ricadi oggi è un campanello d'allarme c'è l'attenzione non deve calare se no torni a prendere i gol ma io non lo dico per il campionato però tu dici per la Champions Michele no io sto dicendo questo specchiarsi che con la Salernitana col Verona senza nulla togliere queste squadre tu la bypassi l'hai bypassata anche con la Roma quando magari l'asticella si può alzare un po' perché magari l'Atletico Madrid ti fa alzare un po' di più l'asticella questi diciamo così vuoti possono essere letali visto che poi non è un campionato dove ci sono ancora 15 partiti lì è un'agriarianda di 180 minuti secondo me Massimo oggi è stata una questione di attenzione quindi hai vinto con la Juve vai a più 4 secondo me con l'Atletico Madrid parti 0 a 0 non ci posso credere che ci sia questo calo di attenzione Michele non abbiamo visto sempre un Inter impeccato no ma lì era diverso lì erano già qualificati no ma non parlo solo dell'ultima la prima con la Real Sociedad mai vale dopo vinse col Benfica l'unica partita fatta in un certo modo con i titolarissimi e poi è andata quasi sempre con la velocità di crociera quindi quello che ti chiede Massimo è una no dico aggiungo io secondo me l'attenzione nel big match me l'aspetto l'hai presa un pochino sotto gamba secondo me la difesa dell'Inter Franco la difesa dell'Inter perché io ti dicevo nel primo tempo e mi sei testimone fase difensiva dell'Inter no no ma oggi nel primo tempo nel primo tempo da 4 cioè da 1 totale però dico questo sorprendere che è la migliore difesa del campionato stiamo parlando il punto di forza contiamo oltre al discorso dell'attenzione quest'anno l'Inter ha inserito un paio di giocatori ringiovanendo dietro sia Pavard che Bissek ma anche De Vrij che è tornato come prima più gli devi mettere acerbi e bastoni cioè io vedo 5 difensori ma anche Darmian quando lo adattano cioè sono tutti su un livello molto alto cioè ci sta tu diciamo quando l'Inter perde lo scudetto se vi ricordate non aveva tutti questi cambi dietro metteva spesso Di Marco terzo adesso spesso va Carlos Augusto che di testa è forte l'Inter oggi sa fare pure il fortino di testa perché ha messo i centimetri quando ha bisogno quindi io dietro quello che abbiamo visto nel primo tempo è una serata secondo me sai qual è la criptonite dell'Inter la criptonite dell'Inter c'è una criptonite che non è l'attenzione perché questo può essere un monito e non ricordo la criptonite è Lautaro perché l'Inter ha una prima punta che segna come Lautaro le altre sono seconde punte brave come Turam seconde punte come Sanchez che fa tre quarti però Turam per dire Lautaro che salta un mese non lo so se l'Inter ha una continuità però voglio dire è un campanello infatti ha preso Taremi per dire è un campanello d'allarme in vista in vista Champions che comunque ragazzi è un obiettivo perché credo che ben figurare contro l'Atletico Madrid sia si è chiesto a Inzaghi cioè non è che sia richiesto solo il campionato anche ben figurare in Champions si beh ma principalmente gli viene chiesto di portare a casa la seconda stella quindi secondo me c'è una valutazione molto più morbida in caso di di sconfitta se l'anno scorso è stata la Champions a salvare Inzaghi quest'anno invece è la seconda stella quindi io non vedo grossi campanelli d'allarme e non vi sezionerei pezzi di partita o non farei valutazioni in assoluto perché comunque a prescindere il match con l'Atletico comunque è difficile cioè a prescindere cioè tu dici se non dovesse farcela non è un fallimento è un qualcosa che nel ordine dipende anche da come va se la perdi 3 a 0 se fai 0 a 0 però l'anno dopo la finale di Champions uscire agli ottavi se non è fallimento a un contesto europeo poco ci manca è peggio non vincere lo scudetto per la propria di questo il terzo anno una squadra super competitiva in Italia non sto parlando di Europa in Italia e quindi il primo anno tu lo perdi per quella svista al derby e per quella dormita che fai tra gennaio e febbraio il secondo anno ti rifugi dietro il grandissimo campionato del Napoli che però non ha una grandissima attenuante visto che poi hai perso 12 partite all'interno di un campionato e quindi ti sei come hai detto giustamente tu ti sei salvato con la finale di Champions esatto e quindi quest'anno è l'anno della verità la cosa preponderante è il campionato vincere il campionato è chiaro che se vince lo scudetto gli fanno la statua ma l'Inter non è che è prima perché l'Inter ha fatto 60 punti scusate qualcuno ha dei dubbi se non è fallimento che l'Inter possa perdere lo scudetto lo può perdere solo ma io farò di giro vi faccio una domanda ma se lo vince l'inzaghi ha fatto il minimo sindacale o se analizziamo il percorso che in tre anni ha fatto qualcosa ma perché il minimo sindacale non è che sta vincendo straordinario o no c'è anche una via di mezzo Giovanna niente di straordinario e niente di minimo di sindacale per me è cresciuto insieme all'Inter però parliamoci chiaro a me sembra che quest'anno di di rette avversarie ce ne sono un pochine cioè l'Inter è superiore in tutto rispetto alle avversarie rispetto agli inciampi che sta tenendo ma la Juve non ha secondo me la corazzata e non è secondo me mentalmente preposta per andare a via secondo me questo è un altro questo è la mia opinione gioca troppo male a me quello che piace di Inzaghi è che comunque non solo vince le partite ma gioca sempre a calcio e questa è una cosa pazzesca perché comunque migliora i giocatori hai capito e poi tutto sommato a parte che i primi a metterlo in discussione l'anno scorso in primavera sono stati i suoi dirigenti quindi io non voglio coinvolgere questo Paolo sì non voglio coinvolgere nessuno però cioè comunque rispetto ai suoi predecessori nel breve va bene Conte ha vinto lo scudetto però in Europa cosa ha fatto? Inzaghi non ha ancora vinto lo scudetto in Europa ha fatto una finale quante coppe ha vinto? Quante ne ha vinte? Cinque eh beh non è cioè altro che minimo sindacale però però in quelle scusami Paolo non sono d'accordo sulle coppe perché per quelle società Inter, Milan e Juventus queste coppe servono poco e niente e beh ma devi vincere servono per corollare una stagione no 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 Paolo ascolta beh ma se le vinci sei bravo Massimo no no capito se le vinci Pirlo ha vinto la Coppa Italia la Supercoppa è andato via è vero quarto scusami se avesse vinto la Supercoppa o la Coppa Italia l'anno scorso come l'ha vinta Inzaghi te lo dico e fosse uscito agli ottavi col porto e avesse fatto quel campionato Inzaghi sarebbe andato via ma sì me l'ho detto io prima ma è ovvio ma ho capito ma io non ragiono con la testa di Marotta e Ausilio per me invece ma io ti dico quello che avrebbero fatto loro ma secondo me se ragioni tu allora fatti dare lo stipendio dall'Inter e fatti no no non me ne frega niente mi basta il mio ma voglio dire questo mi basta il mio tranquillo ma voglio dire questo il problema è che su Inzaghi veramente c'è un avvelenamento e una non obiettività di giudizio pazzesco perché teniamo in piedi nei giudizi e nei gossip degli allenatori pipponi e Inzaghi viene massacrato ancora adesso ma lasciamo perdere ma tu scusate io non mi sembra che qualcuno abbia massacrato ma io non sto dicendo ma no però io non posso non posso concepire non dico te in generale sentirmi dire ha vinto 5 coppe vabbè non contano niente come non contano niente no non ho detto che non contano niente che in quelle società scusami però Paolo in quelle società Inter Milan e Juventus soprattutto quelle coppe non ho detto che non contano niente ma non sono sufficienti per una riconferma ma io ti sto dicendo che no scusami fammi finire però io ti sto dicendo quello che avrebbero fatto i dirigenti dell'Inter se l'Inter fosse uscita con il Porto ok in Coppa dei Campioni sì ma non è uscita e avesse fatto in Campioni aspetta ma come si fa a ragionare con i sei ma sono stato io il primo ma Massimo sono stato io il primo a dire ma ti sto dicendo ti sto dicendo una cosa per dire per farti capire che quelle coppe per una riconferma in quelle società contano poco ma sono stato il primo a dire io ma sono stato il primo ma sono stato il primo a dire io che la Champions l'ha salvato lo scorso anno lo so però però nel mio giudizio su Inzaghi dovrebbero pesare o no quelle coppe scusami per me dovrebbero pesare di più per me dovrebbero pesare di più ma scusami ma se pesano di più scusami ma se pesano di più e la società ti dice se vinci lo scudetto ti do 500 mila euro a testa e se vinci la Coppa Italia o la Supercoppa te ne do 50 dovrebbero dovrebbero pesare di più ma tu continui a dire dovrebbero anche la storia non si fa ma io non faccio i 6 non mi hai capito io ho detto che dovrebbero pesare di più nella valutazione sul lavoro globale di Inzaghi non che dovrebbero pesare di più di scudetto e Champions ma è ovvio che scudetto e Champions pesano di più allora scusa una volta dici che vale l'allenatore su cui far crescere il gioco adesso però dici che valgono le coppe no ma qui Inzaghi sta coniugando il gioco vale tutto Inzaghi ha fatto tutto inzaghi ha fatto tutto risultati non ha ancora vinto niente di importante aspetta non ha ancora vinto niente di importante scusami ad oggi era vinto quest'anno io volevo parlare ieri ma io ad oggi parlo Massimo tu non sei uno che sostiene Inzaghi l'abbiamo capito però non si può criticare ma non è vero ma scusa Paolo però scusa Paolo il percorso ma io guardo quello che tu Massimo guardo quello che succede tu Massimo sei molto più clemente con Allegri che da quando è tornato alla Juve ma stai scherzando è inguardabile e non con Inzaghi ma io ho massacrato Allegri ma cosa stai dicendo Paolo ma se Allegri ha usato una persona una persona amica comune per farmi chiamare e dire che non dovevo criticarlo così ma cosa stai dicendo Paolo sarà pernaloso ma stai dicendo Paolo però hai criticato di più Inzaghi che l'ho stracriticato però Massimo possiamo arrivare alla conclusione Massimo che però in questo momento non potete mettere in bocca le cose che io dico o non dico ma tu hai criticato tu hai criticato sicuramente più Inzaghi di Allegri ma io ho criticato Allegri dal primo giorno che è tornato ma come stai dicendo lo critica tu in questa televisione sei arrivato ieri io sono 25 anni che sono qua allora io ti sto dicendo scusa ma 25 anni fa non c'era Allegri io ti sto dicendo ascolta io ti sto dicendo ma quando c'entra 25 anni fa allora mi fai parlare mi fai parlare o parli tu ma scusa sono qua da due anni sono qua da due anni e quando si parlava di Allegri sei qui da due anni allora io ti dico una cosa quando la Giovanna visto che tiro fuori quando Allegri ha sostituito Conte l'ho massacrato sia quando è arrivato in finale di Champions sia quando è arrivato a vincere quattro scudetti consecutivi quindi non dire cazzate perché queste sono cazzate Leonetti anche lui è testimone l'ho sempre stracriticato quando vinceva gli scudetti è vero ma anche il suo ritorno alla Juve posso cambiare idea posso scusate perdonatemi ma si è acceso il dibattito ed è anche il bello della diretta ti duro perché poi la domanda a Paolo sembra che noi diciamo ancoriamo a una teoria di base analizziamo quello che stiamo vedendo allora c'è un mio amico rapper che ha scritto l'Inter di Inzaghi uno spettacolo mai visto prima un tuo amico chi? rapper Michele Arimburgo che salutiamo che salutiamo che ho capito ma che anche la SLA quindi lo salutiamo perché ha scritto questa canzone molto bella che secondo me fotografa ed è il dibattito che oggi vi riporto c'è tra gli interisti lui dice canta l'Inter di Inzaghi è uno spettacolo mai visto prima qua con Massimo tante volte lui ha ricordato il primo anno di Inzaghi a novembre e dicembre l'Inter vince a Roma 3 a 0 si diceva tutti dicono che l'Inter gioca meglio di quella che ha vinto lo scudetto poi a febbraio o marzo e bel cavolo e lo scudetto non l'ha vinto adesso stiamo vedendo un terzo anno oltre ad aver vinto le cinque coppe che contano non con Ma Inzaghi ti direbbe che non era tenuto a vincerlo perché la società non l'aveva chiesto dove voglio arrivare che noi non possiamo fare solo e a me piacciono i numeri però dobbiamo andare anche oltre la contabilità cioè non possiamo solo dire è primo bene è secondo male è primo aggiungiamo qualcosa a questo primo posto questo primo posto ha dentro 60 punti dopo 23 partite a 55 gol un allenatore che già nei primi due anni è andato oltre i 100 e quest'anno stiamo dicendo si è migliorato nella fase difensiva prende 0-5 si vedo sempre uno scudetto ti danno non te ne danno tre ho capito ma nella valutazione ma nella valutazione Massimo no Massimo l'anno scorso a Spalletti a Spalletti gli abbiamo suonato i violini l'anno scorso però io Massimo ti ho fatto parlare fammi finire una volta e io ho ascoltato Spalletti ha vinto Napoli ragazzi dove non vince mai nessuno ma cosa stai dicendo ho capito l'Inter quando ha vinto Conte quando ha vinto Conte tu hai detto che non vinceva da 11 anni e allora io ti dico che ha fatto la finale di Champions la seconda in 51 anni la seconda in 51 anni l'Inter a 19 scudetti non ne ha tre ho capito ma la finale di Champions quando ne ha fatte quando ne ha fatte di finale di Champions ma ho capito ma infatti io non sto mica dicendo l'ha detto Bargigia l'ha salvato la finale di Champions sì ma io sto dicendo sarebbe andato via l'ha salvato non mica lo dico io ho capito dopo che si è salvato anche per un merito perché ha fatto due mesi alla grande alla fine sette vittorie su otto in campionato eliminando anche il Milan dopo vent'anni aspettavano i tifosi l'ha asfaltato il Milan in semifinale col Manchester City è stata una partita alla pari col Manchester City come gioco al terzo anno uno può crescere o può fare male al terzo anno non è che sta solo crescendo ci sta facendo vedere il calcio champagne ragazzi l'Inter gioca a calcio in una maniera spettacolare ma nessuno crede Vorrelli ma io ho detto che chi sta dicendo il contrario io ho detto che è cresciuto se però devo analizzare quello che ha fatto fino adesso in Zai devo analizzare i due anni o non li devo di analizzare ad oggi devi analizzare la crescita del terzo anno che è clamorosa io ho le mie opinioni ok io ho le mie opinioni vivo sei mesi a Miami e non porto la maglietta di nessuno perché ho detto per anni per anni ho detto che Cherubini arriva bene non potevano stare alla Juve per anni ho detto che c'era una discrepanza tra la proprietà e la dirigenza del Milan per anni ho detto che Allegri era la persona sbagliata da riportare alla Juve e per anni ho detto per i due anni scorsi soprattutto nel primo che secondo me in Zaghi primo anno doveva vincere lo Scudetto e secondo almeno lo doveva combattere ma lo sa anche lui questo sa anche lui il papà in una bellissima intervista a fine stagione l'anno scorso ha detto dopo la finale di Champions lo so che lo sa anche lui però se lo dico io non va bene no va benissimo ma Massimo c'è la sensazione che quando l'Inter ha fatto l'ennesimo questa è la settima vittoria dall'inizio dell'anno solare sai quante volte l'Inter ha fatto sti numeri qua mai 2006-7 i punti e differenziali da 5-2 ma anche Napoli non ha mai fatto i numeri e allora ma Spalletti gliel'abbiamo suonato i violini perché adesso non li dobbiamo elogiare Inzaghi ma nessuno sta criticando no nessuno sta criticando Michele fagli vincere lo Scudetto e avrà violini contrabbasso avrà tutto ma nessuno sta criticando fagli vincere lo Scudetto sembra che te toccano la moglie no in settimana dopo Interiuve ma ti stanno toccando la moglie in Italia ma che c'è ma perché vedi la Buttila stanno toccando la moglie sembra che quando devi elogiare Inzaghi c'è il Braccino questo è ma come Braccino ma scusa ma l'ho detto ma poi scusa ma tu mi vieni a dire cosa devo dire io no non sei tu tu prima hai parlato io ho ascoltato parlo io e interrompete sempre no no allora Borrelli poi parla di calcio e champagne io sto parlando di tanto non sto parlando di risultati brava vincere giocando bene allora senti da quattro ore a parlare ma che vuol dire prima era la cronaca della partita che vuol dire Massimo allora però posso dire una cosa che giustamente tu il primo anno dicevi ma i tifosi vorrebbero giocare bene e non vincere o giocare male e vincere fa tutte e due adesso fa tutte e due questo è un dato di fatto non siamo ancora alla fine non siamo non siamo ancora su città attenzione non siamo ancora alla fine ma io sarò il primo a levarmi il cappello come come scusami come ho levato il cappello chapeau al signor Allegri quando ha collezionato cinque scudetti consecutivi e io per tre anni tre anni io l'ho criticato persino quando arrivava a vincere scudetto supercoppa coppa Italia e quant'altro l'ho criticato scusate ma tu Massimo oggi lo apprezzi il gioco dell'Inter se vengo qui per leccare il culo ma chi ma chi fa sta roba ma chi no e io infatti ho criticato anche Allegri scusami ho criticato tu puoi sapere Borrelli ma io non capisco la discussione il signor Antonio Conte non mi ha parlato per due mesi perché l'ho criticato ma ti ho capito ma l'argomento Massimo nessuno e allora io critico chi mi pare non sono figlio di nessuno ma ho capito ma non è questo l'argomento l'argomento è il gioco di Inzaghi io sto solo dicendo che il gioco di Inzaghi ma io ti sto dicendo io ti ho detto ma chi ti ha detto scusa ma chi ti ha criticato Inzaghi quest'anno ma ci mancherebbe altro vince tutte le partite con 5 a 0 è una roba assurda allora Leonetti due cose perché sta vincendo tutte le partite con record di gol di differenza Leti ma io ti sto dicendo che ho criticato Allegri quando vinceva eh ma non vinceva giocando così Massimo non giocava la Juve i tifosi della Juve volevano mandarlo via c'era l'Italia non è così Michele i tifosi della Juve c'era un movimento tanto che la diligenza ma scusa Paratici e Nedved l'hanno mandato via o no? Paratici e Nedved l'hanno voluto mandare via o no? rispondete a sta domanda Paratici e Nedved dopo il quinto scudetto volevano il bello? volevano il bello ma ha vinto i scudetti consecutivi eh volevano il bello invece all'Inter c'è il dibattito sei la più bella di sempre questa è la domanda che si fanno ai tifosi dell'Inter quindi l'Inter più bella che con qualsiasi altro allenatore di sempre anche quella di Conte perché stiamo vedendo un calcio che l'Inter a questi livelli estetici non è mai riuscito a mettere in campo Michele mi permetterà i voti solo una cosa la qualità fa sempre la differenza vatti a vedere la Juve di Allegri quando aveva i Chedira e Manzucchi non è che giocava male ma a punti di vista 35 passaggi per trovare l'imbucata ma se Cristiano Ronaldo gli ha fatto così Cristiano Ronaldo gli ha fatto così ve lo siete dimenticati hai paura posso dopo mezz'ora fare una domanda a Paolo perché Paolo prima diceva su Inzagli visto così chiudiamo il cerchio su Inzagli diceva un allenatore massacrato magari negli anni scorsi Paolo però quest'anno non mi sembra che siano arrivate critiche anche alla luce di numeri importantissimi io voglio dire ho detto massacrato per primo dei suoi dirigenti lo scorso anno in primavera perché tu vedevi le critiche sui giornali ma molte cose uscivano da spifferi della società ma poi Marotta l'ha anche ammesso e quando Inzagli a un certo punto sentendosi a fine corsa disse a fine stagione parlerò spiegherò a chi no ma è una semplice fotografia di quello che è successo non è che ho detto qualcosa di strano quindi non intendevi quest'anno Paolo no però quest'anno in senso assoluto Paolo dice i vodi di una stampa non proprio il grosso del massacro perché non è dialetticamente un sciamano però è veramente poco apprezzato perché per esempio quando si parla di Sarri che per me oggi oggi non oggi che ha vinto col Cagliari ma questa stagione oggi rispetto a Simone Inzagli è molto meno evoluto nel calcio che fa cresce meno lascia perdere la differenza di Rossi tu dici è più tenuto in considerazione sì rimane questo grande fa un bel calcio però qui ma godi di buona stampa da sempre Sarri non di buonissima ma comunque non di cattiva cioè quella cosa di Simone Inzagli sarebbe da analizzare un po' come fenomeno di sociologia perché comunque un allenatore per bene se vuoi non paraculo che non non si attacca a tantissimi alibi no per Maldimurigno prima siamo in un mondo che ama magari un'esposizione diversa uno disponibile infatti Paolo quello che diceva Giovanna prima quando Inzagli dice a Riad quando Inzagli dice a Riad il primo anno si toglie quel piccolo sassolino qual è la differenza dell'esperto Allegri che Allegri ti ricorda prima e dopo i pasti che la società gli ha chiesto di arrivare in Champions perché così nessuno lo dimenticherà Inzagli l'ha ricordato una volta tre anni dopo tre anni dopo ma infatti gli hanno tutti da dicembre in poi fino a maggio era scontato che l'Inter era la più forte era favorita e doveva vincere nell'estate in cui Zanghi il presidente parla e dice in un processo di crescita quest'anno dobbiamo fare un passo indietro perché abbiamo chiuso a meno 250 quindi a Kimi 70 se ne va a Kimi 113 se ne vuole andare lui e quindi prendiamo i soldi Eriksen ha avuto quel malanno e quindi la squadra è stata ricostruita un merito che io gli riconosco la seconda stella per esempio un merito che io gli riconosco è comunque adesso specialmente quest'anno però di riuscire ad allenare e a mantenere freschi e competitivi comunque giocatori ultra trentenni perché siamo sicuri che Miki Italian avesse potuto giocare così a quei livelli con un altro allenatore a Cerbi Darmian voglio dire queste cose sono da dire a prescindere e poi comunque siccome io credo di essere un po' come Massimo quantomeno mi verrà riconosciuto che non devo leccare o liciare il pelo a nessuno a nessuno di noi ma nel senso che non ho nemmeno una squadra per cui di riferimento da uno che lavora professa fare opinionista nel calcio italiano e di italiano mi piace vedere una squadra che quando la vedi giocare ti diverte fa un bel calcio hai capito? poi ci sono i fenomeni di parossismo e di integralismo tipo alla Roma dove riempivano lo stadio per vedere un calcio deprimente come quello che facevano però lo riempivano Massimo Massimo dai per chiudere non so se vuoi di raggiungere perché c'era Borrelli che ti faceva il segno che Allegri in quella Cristiano Ronaldo non ha fatto il segno a Mauro no ma chi è Massimo non era rivolto no lo so Cristiano Ronaldo ad Allegri faceva il segno insomma quando uscirono con l'Ajax ecco che ha avuto paura di vincere di giocarsela ma se io ti sto dicendo che lo criticavo è vero tu stai sfondando una porta aperta scusami eh qui c'è gente ma non è gente io ti faccio vedere articoli del 2017 2018 2016 dove io dicevo che Allegri per me non era una natura adatto a quello che eh vedi te lo ricordi pure tu ma me lo ricordo anche io Massimo e grazie a Dio scusami Paolo ma io vengo in questa televisione da 25 anni forse perché tranne il periodo in cui ho lavorato per la Juve e quindi ero costretto a non poter dire determinate cose quindi per otto anni io ho lavorato lì e quindi non potevo certo venire a fare a muovere delle critiche anzi ti dirò una cosa che anche in quell'epoca io dissi qualcosa nel periodo in cui arrivarono Buffone e Nedved che erano tutte e due se ve lo ricordate all'inizio erano tutte e due sottotono dissi un qualcosa mi chiamò mi chiamò Luciano Moggi per dirmi che non ero tenuto a dire in televisione a criticare in televisione certe cose quindi io dovetti anche modificare ma da quel momento in cui poi non ho lavorato più lì io vengo in televisione dico quello che mi pare e dico quello che penso e quello che vedo quindi ho ricriticato allenatori di Mila allora siamo in due Massimo di Lazio di Roma siamo tutti ammetterai che siamo almeno in due beh sì ammetto che siamo in due e mi metto insieme a Paolo però gli altri è logico che portano una fede al loro interno io sono un professionista mi dispiace su sta cosa non ci sto preparando parlo per me credo di poter parlare anche per Michele io osservo io distinguo quello che mi auguro da quella che è l'analisi io quando Inzaghi ha preso l'anno scorso in tutte le trasferte tre gol prima del mondiale se vi ricordate tante volte c'è stata la domanda sulla fase difensiva sulla squadra alta sulle preventive eccetera eccetera l'analisi la sappiamo poi durante la partita faccio la telecronaca da Lerazzurro ma io non lo mica dico no ma Massimo come Diziano Crudeli che è un altro che dichiara la sua fede ma ha un'analisi secondo me quando fai questo lavoro secondo me devi riuscire ma Massimo mi permetto solo di dire questo quando fai questo lavoro devi cercare di essere il più possibile super parte ma quale lavoro? sì ma giornalista franco scusami franco franco però quindi io personalmente però ho trovato che ci sono tanti giornalisti sono italianista di un sito scusa franco scusa franco no però sta cosa non la faccio passare no ma neanch'io neanch'io la faccio passare neanch'io mille giornalisti che sono travestiti da tifosi o tifosi travestiti da giornalisti ma spesso non dichiarati però Massimo ragazzi 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 però io stavo parlando per me scusa ma non ci non sentitevi però toccati no scusa perché se sei vuoi dire che è la cosa di paglia Massimo non è una questione di sentire si toccati però posso dire una cosa io che devo andare in pubblicità io ti sto dicendo che questa settimana è successa una cosa toccata con mano dove un giornalista di Mediaset si è levato la maglietta di Mediaset e si è messo la casacca di una squadra per rispondere a quello che abbiamo detto secondo me aspetta Franco Franco hai parlato dopo la pubblicità qui insomma dobbiamo far tremare in un modo o nell'altro Michele Borrelli tra poco vi svelerò come tra poco vi svelerò le modalità di questa paura che gli induciamo prima però voglio andare ad Alberto Gianbruno come va? come va Reggio Emilia? come va? come va? tutto ok tutto ok esatto citazione Sanremese qua gliel'hai tirata fuori a dove? chi era? mica a caso mica a caso due minuti al termine gioco interrotto in questo momento stanno entrando i sanitari del Sassuolo in campo ma prontamente il problema viene viene risolto infatti Dionisi va a sincerarsi delle condizioni dei suoi calciatori tra poco ci sarà una sostituzione ti dico che in questo momento comunque Iuri c'ha ancora la volontà di vincerla sta per entrare in campo Samuele Mulattieri al posto di un Pinamonti stremato autore del primo gol ma anche nel secondo tempo ha avuto delle grosse chance mancano due minuti e dunque da possiamo chiamarla una standing ovation perché non sono presenti in tantissimi questa sera al Mapei Stadium ma comunque chi è presente dà il suo tributo a Pinamonti che aveva portato il Sassuolo in vantaggio Mulattieri terza sostituzione per Dionisi ultimo minuto di gioco tra poco scopriremo l'entità del recupero e comunque ti dicevo la volontà del Torino e di Iuri c'era quella comunque di vincerla tanti tifosi del Torino presenti questa sera a Reggio Emilia a tal punto volontà di vincerla che sta mantenendo in campo Occhereche che è appena entrato pochi istanti fa Cantex della Cremonese ma anche lo stesso Duvan Zapata quindi comunque il Toro dà un'impressione chiara di voler portare a casa un risultato che sarebbe molto importante di contro il Sassuolo si deve difendere perché la zona salvezza è proprio lì a portata di mano ma la zona caldissima è dietro soltanto di un punto Sì ma praticamente da come si è messa questa giornata sotto non va nessuno praticamente no vabbè il Cagliari ha perso il Sassuolo gioca in casa Nicola pazzesco Paolo De Frelle attenzione No Sassuolo gioca in casa però si sta per infinare l'MLM alle spalle del portiere Granata se mi dai tre secondi ti dico il recupero No io pensavo se mi dai tre secondi ti dico da che parte sto perché sai che io poi sono attaccato un mastino ma vabbè come Mosca tu hai buttato tanto voglio dire Mosca manceva o di qua o di là Allora sai che ti dico c'era una scelta di campo una scelta di campo sai che ti dico quattro minuti il recupero Alberto se finisse così è un signore come i Zaghi Bionisi rimane sulla panchina del Sassuolo sì col pari sì col pareggio avrebbe rischiato l'esonero con la sconfitta con la sconfitta in casa era stato già preallertato grosso anche se in quel caso lui prima si diceva di allenatori che vengono contattati soltanto per l'obiettivo a medio e lungo termine lui ha fatto capire all'enturace del Sassuolo la dirigenza poi magari Paolo lo confermerà che non era proprio entusiasta di un contratto fino a giugno e poi magari opzione a caso di solare questo problema che stanno riscontrando in queste ore a Salerno dove in prima battuta sia Ballardini che semplici non si accontentano di quattro mesi di contratto ecco poi vediamo come la risolvono in verità Sabatini è abbastanza un estimatore di grosso che se dovesse rocchiudere cioè non va non va a Sassuolo magari può tornare in corsa però sarebbe il solito problema della durata vediamo vediamo se me lo confermi c'è anche di Verani sì sì ah fase di Verani vediamo se me lo confermi perché mi era arrivato uno spiffero all'orecchio che in Zaghi nelle ultime settimane forse addirittura più di una volta aveva dato le dimissioni ed erano state rimandate indietro questo questo non lo so però comunque non è ancora ufficiale su Esone non me lo sarà in ogni caso sì manca ricorderete quello che aveva detto Sabatini ha fatto intendere quando è arrivato Walter Sabatini ha fatto intendere in Zaghi me lo sono trovato qui non l'ho scelto io quasi non era insomma in Zaghi ha dato le dimissioni una volta che dobbiamo parlare di Lautaro dobbiamo far fermare Borrelli poi le dimissioni o comunque licenziamento poi rientrò e poi venne licenziato dopo l'ultimo e prese Ottogolla Bergamo quindi è una situazione un po' particolare un po' invilico più che altro vorrei vedere chi si accolla la situazione della Salernitana in questo momento è complicata sì allora mercato perché il mercato va avanti sempre comunque no anzi questo è il periodo caldo dove certe mosse vengono magari all'insaputa di tutti messe a punto perché uno non è che aspetta la fine del campionato sì può aspettarlo può aspettarlo a quonte per vedere dove andare ma insomma poi il waltzer di altre panchine o di giocatori blasonati o eh si consuma in questi mesi Lautaro siamo passati dal amo l'Inter sto bene qui al procuratore che ha iniziato insomma a lanciare qualche campanello d'allarme lunga la strada del rinnovo è impervia non è detto che il mondo è grande mi guardo intorno Lautaro un campione Lautaro prende meno in questo momento prende sui 6 milioni e mezzo mi pare e credo giusto che voglia voglia andare a prenderne almeno 10 tanto è vero che per la prima volta qualche giorno fa ha parlato Lautaro allora l'inizio è stato amo Milano amo l'Inter mia moglie sta bene qui non abbiamo un motivo di cambiare però la strada del rinnovo è lunga ed è difficile anche perché è un contratto che scade nel 2026 ma non è una novità nel senso che queste sono un po' fughe in avanti mediatiche e anche strategia del procuratore ma l'unica volta in cui si è espresso in modo un po' circostanziato e non da luogo comune Marotta ha detto sarà una cosa che si risolverà in primavera ma è anche comprensibile perché comunque un contratto oneroso che costringerebbe l'Inter a uno sforzo pazzesco adesso senza entrare nelle minutaglie che per arrivare a 10 l'Inter vorrebbe fare 8-8 e mezzo più bonus questo vorrebbe o bonus garantiti tipo quelli di Leao che scattano a prescindere per arrivare ai famosi 7 oppure vorrebbe 10 iscritti ma c'è anche una questione comprensibile che è legata a maggio se non sbaglio alla questione del rifinanziamento del prestito quindi è ovvio che per un extra budget per un ingaggio pazzesco l'Inter voglia guardarsi in casa ma io non vedo ancora segnali di scricchioli in questa trattativa ma io sono d'accordo e volevo sentire Massimo poi ovviamente Borrelli Leonetti è tutto vero però il fatto che addirittura non si possa decidere su un giocatore così perché non sai che ne sarà di te perché è il rifinanziamento del debito oppure non riesci a rifinanziarli o passa al fondo OCTRI che diventa un poco meglio per il Milan cioè un grosso enorme gigantesco punto interrogativo Massimo ma io non ho non ho conoscenze non conosco il procuratore non conosco la situazione Lautaro quindi non posso esprimermi mi esprimo per quello che leggo e secondo me ha ragione Paolo questo è un lavoro che sta facendo in modo da fare l'interesse del giocatore il procuratore quindi la gente è logico che cerca di ottimizzare al meglio quello che sono le espressioni di campo di questo giocatore oggi viene classificato come uno dei migliori attaccanti al mondo e quindi è logico che lui deve cercare di ottimizzare di sfruttare al meglio come si diceva all'epoca si diceva si batte il ferro finché caldo quando c'è un giocatore che sta andando bene devi andare subito a cercare di fare di prendergli il meglio perché poi è tutto grasso che cola sia per il giocatore che per il procuratore però Massimo si dice anche che il campionato italiano non ha la forza le società di trattenere siamo arrivati a quella deadline per cui non c'è la forza di trattenere l'autantico ma io ti dico allora c'è una discrepanza su quello che si dice dell'Inter dal punto di vista economico perché persone che si sono incontrate con ausilio a Riad riportano il fatto che ausilio avrebbe detto che l'Inter è perennemente in vendita ma nello stesso preciso istante rifiuta 15 milioni per Valentin Carboni portati dal Crystal Palace quindi dice una cosa e poi comunque ti spiazza dandoti una risposta negativa su un giocatore che sicuramente ha una grande prospettiva ma che oggi forse 15 milioni barra 20 perché poi se una società te ne porta 15 sappiamo benissimo che tu puoi metterti al tavolo della trattativa e poi magari chiudere a 22 a 20 più bonus a 25 non lo so però è logico ed è vero che oggi i soldi arrivano da lì perché le tre offerte che sono passate attraverso questo procuratore che sono per Sule che sono per Ildiz e che sono per Valentin Carboni tutte e tre arrivano da Crystal Palace West Ham eccetera eccetera quindi arrivano tutte dalla Premier ma noi secondo me Giovanna dobbiamo fare un po' di perché per i tifosi non è facile capire dare 10 milioni potrebbe sarebbe quello che guadagna di più potrebbe ma noi dobbiamo pensare ai vasi comunicanti cioè se noi riempiamo da una parte poi col gioco dei vasi comunicanti devi togliere dall'altra perché il totale deve rientrare in una tot percentuale sui ricavi quindi allora perché io dico dobbiamo fare chiarezza con i tifosi che spesso non capiscono perché ci sono due discorsi paralleli su una retta parallela c'è il discorso proprietà che se arriva un'offerta di un certo tipo la può prendere in considerazione ma siccome non vuole rimetterci e perdere tiene alta l'asticella contemporaneamente però deve rifinanziare con OCTRI entro maggio e qui c'è una retta parallela e sarà quello il percorso rifinanziare in attesa oggi siccome non c'è una grande offerta come le intende Zank per quello che ha investito lui anche a costo di rifinanziare con tassi interessi alti lui vuole rifinanziare però non è un suicidio no perché ci sono l'altra retta parallela qual è l'altra retta parallela il club che deve continuare a crescere sia in campo e di conseguenza i ricavi fuori dal campo ci sono i margini oggi ci sono in che senso il progetto nuovo stadio la nuova Champions a cui l'Inter anno prossimo partecipa il mondiale per club a cui si è qualificato e si parte da una base di 50 milioni ora però che significa non è che l'Inter può aumentare all'infinito quindi non è che se Lautaro chiede 12 10 15 e poi Bastoni chiede 10 12 qui la fotografia è molto chiara l'Inter è il 14esimo club europeo a livello di ricavi strutturali nel ranking è sesta quindi vuol dire che sta overperformando rispetto al suo potenziale economico questo che vuol dire che ci sono almeno una decina di società che possono offrire uno stipendio anche molto più alto e a quel punto che fai a quel punto tu non puoi dire ci sono giocatori incedibili mai ma attenzione Bastoni ha detto l'altro giorno però ci ha fatto capire comunque a Milano si sta bene dei contratti alcuni li hanno già rinnovati tipo Bastoni e Ciavanogu cioè non è che arrivi il primo che passa offre a Lautaro 15 e se lo porta via oggi entriamo nel gota di 3 4 club che possono dire io punto su Lautaro non lo so al posto di Lewandowski però il Barcellona oggi non sta pensando questo però attenzione detto tutto questo che non c'è questo club oggi chiudiamo il quadro la fortuna dell'agente Camagno che era anche di Cooper di Lautaro qual è? che oggi Lautaro sta facendo la sua migliore stagione che oggi Vlaovic lo sanno tutti l'anno prossimo scatta a 12 milioni ed è nella stessa realtà di Lautaro che Oseman quest'anno è stato portato a 10 allora lui fa il suo gioco il suo gioco dice voglio lo stesso alzo però ad oggi a due anni e mezzo dalla scadenza cioè non è diciamo un problema impellente è una trattativa come dice Paolo Bargigia che a fuoco lento deve andare avanti però Michele permettimi una cosa hai appena detto che la restituzione del prestito di OCTRI a OCTRI non è così dirimente non è così fondamentale no 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 a livello di fluidità monetaria perché tu hai parlato del mondiale ma non vengono dai soldi dell'Inter i soldi che deve dare a OCTRI sono due cose separate ho capito però che disponibilità ha l'Inter perché se tu quest'anno vinci lo scudetto ha chiuso a meno 85 non puoi prendere soldi dall'Inter appunto quindi se tu quest'anno vinci lo scudetto è il Lautaro che ti bussa quattrini e ti chiede 10 ma ci deve essere un'offerta che oggi non si ha la forza che cosa può fare l'Inter oggi ma non c'è oggi l'offerta no ma aspetta aspetta però è anche verosimile che ci sia che magari Giovanna io ho fatto lo scrivere ha parlato anche per attirare voglio sì però magari non lo sappiamo però fin quando non esce per esempio ci sono state negli anni è verosimile che qualche grande club voglia nel suo anno migliore e chiedono le ausi dice il pari e non mi chiedono sono arrivate quattro offerte all'autaro in questi anni allora uno è l'Arabia Saudita ma lui non vuole andare in Arabia uno è il Barcellona di Messi lui aveva detto sì il Barcellona aveva detto sì e poi scoppia la pandemia e il Barcellona si tira indietro sulla clausola oggi non c'è più è così oggi non c'è più la clausola poi hanno fatto timidi sondaggi Tottenham e Arsenal però fuori dalla Champions e Tottenham e Arsenal e Lautaro dici io tra Tottenham e Arsenal e l'Inter se arriva il Real Madrid è una cosa se arriva il Tottenham ma posso dirvi è la migliore stagione di Lautaro sì sì ha fatto 22 gol è assoluto è appetibile io dico che sia appetibile